Musica Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Deadpool Sempre in compagnia del carissimo eroe in costume rossonera E siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta E siamo praticamente qui dove c'era il castello gonfiabile E dobbiamo recuperare il bastardo che se ne è vignada Ok c'è il trasporto per evitare i getti d'aria Qua non possiamo andare Quindi possiamo andare di qua Sempre armati delle nostre belle cata... E là Che è? I vecchi giochi 8 bit Che cosa significa? Che cosa significa... Davide il confetto... Questo è io Che cosa stai Che cosa stai Fai un noi Cosa Cosa Ha Su sono entratta la chiave quindi dobbiamo tornarcene giù di qua oh oh ah 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 wow wow i i was just running around my game and all of a sudden i noticed that some shite was fucked up the money budget the hell man never Un milione e uno, un milione e due Addio Oh merda, chi cazzo era quella la? Insegui Marander Marander, di qua non ti vada nessuna parte Ah 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 ah, ma stai bastardo perché non ti avevo mica visto eh Andare giù Dai venite venite Ehi Questo si chiama Deadpool, non nascondino come gioco eh Grazie Ah, gentilissimi fiori Anche per il pollo fritto Guardate che non mi posso abbassare su me Ehi 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 WTF Non puoi di spada ci vuole dai Ehi 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 Olè Munizze Un po' l'ho fritto Che non guarda mai Uh Tacco Il trofeo guadagnato Oh 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 Miam Bam Bam Eh Can't teleport yet Try again Aw Non ius No Le come va bene, ahia 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 ma da ooo ahia 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 ah 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 oh no no è l'ultimo mamma è morto male e la madonna non finivano più depo mettiamole via da se non ci arrestano ah 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 oh che sbaglio mi sa che abbiamo sbagliato sopra non si è andato da nessuna parte vero? ok e' sopra di noi no guarda sono sotto di voi yeee oh madonna e' questo chi minchia e' Hulk? e' che l'hanno preso da Ben Pan ma è diamante di Ben Pan no 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 Ahio! Ahah! Opinito! Madonna mia! Opinito mia! Vai! Voi con la pistola! Olè! Olè! Fatto! Minchia diamante oh! Porca troia! Hai capito diamante di Bentenna! Aspetta vediamo se possiamo acquistare qualcosa! Oh si! Bella! Non possiamo bloccare nient'altro! Oh vabbè! Farò tutti i potenziamenti non appena sblosserò tutto! Granata! Questo nient'è! Ahia! Ah cacchio è vero! Un po' di là di qua! Un po' di là di qua! Sono diventato Raffaello delle tartarughe ninja! Ninja! Oh! Wahh wa що va! come è il momentum eeeh un po' ma Madonna Mamma Ero mastacrato ragazzi Eccomi qua Ero mastacrato Oh ma che tassi però He 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 Arklight, looking good babe You been working up? You're pecs, I mean your breasts no i tuoi stessi sembra incredibile se tu hai fatto un'altra posso aiutare a te aiutare a te aiutare a te aiutare ok, si, ma parliamo di te aiutare ok, si, ma parliamo di te aiutare oh, come si, ha un'acqua ha un'acqua ah 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 ah, il coraggio, tu cosa Mamma mia Dai 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 Venite venite Uuuu E questo chi è no? Momentum 2 Momentum Boooom Funky Funky Ma ciao tesoro Ti piace eh? Aia Ti piace Il duro eh? Il violento ti piace Aia 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 Una mutante Una mutande Una mutande Via Belle cose però sai Non vorrei mai Finire nelle seconde d'urto E quanto cavolo ti salvo poco Pensi che sei cool? Sei non l'unica con potere L'idea Ma dai gran futuro Uuuu No? 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 Ma dai cazzo Oh Come on baby We can still work this out Do you disgust me? Oh cazzo Eh Siamo vivi? Oh merda Ehi 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 Oh Ah Ah Che cazzo Ah Ehi 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 Aspetta eh Oh povero ho voluto distruggere tutto anzi sua vertigo oddio oh mamma la e a chi lo dice e ora come la mettiamo forza troia wow non era vicino dai si acchiappo fa metà tanto di altra boss fight no oh i get it clever you think so no but we're doing it anyway ok 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 dove siete? è quello che cacchio è come cazzo lo faccio fuori quello wow merda è qua dietro merda è qua dietro e vabbè dai e no vabbè cazzo lui non vale minchia wow ma non mi posso furare così diamine sbattarda di un avvertito controllo mentale o emitrania perché ci ha buttato in acqua che pico Oh Yes, all my satellites are in place ready for your broadcasts Excellent you are no longer in use to me But 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 There goes our contract money Wait, 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 is that how the script goes? Eh, time to have a little chat with Sinister Hey there Captain Douche You know I don't appreciate you killing my target before I come Oh my god, I don't want to kill you From your sorry ass Should I be impressed? What the hell? Why are you standing? Oh Oh Wow What are you ex-babes doing here? We'd probably know if we'd read the original script Deadpool, you need to listen to me Mr. Sinister has taken over chance I can't believe we used to date her Why'd he dump her? She's hot Not as hot as silent Were you even paying attention? Wolverine? Rogue? Hey, you're here too? Try reading the script Like the car said We gotta go to Genosha if we're gonna stop Mr. Sinister from Wait, Genosha the island? Hey, we'll have to fly there. Are we taking the blackbird? Oh, I always wanted to fly the blackbird No God damn way ooohoh It's the blackbird YippEE! Just kill all the X-Men L.O.A DEPPOL LOOK AT ME! AHHHH AY, No AY, No Sì! Il montaggio funziona ogni volta! Abbiamo avuto. Sì, ma avuto avuto Genosia! È sembra che il nostro avviso è un po' più di più che i ex-chubs potessi. Oh! Ci sono morti? Let's gently poke the furry one and find out! Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta continueremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E... Alla prossima! Ciao, belli! Abbiamo volato sul Blackbird!